La passa rinchiusa nell'altra stanza, che poi sarebbe il bagno, sono io. L'altro che busse e mi supplica di non fare cazzate è mio marito. Sto mandando giù un cocktail di pillole varie, Thoradol, Roipnol, Optalidol, Femidol, Loxanas e credo 52 supposti di Cibalgina, tutto per bocca. Mio marito ha già chiamato l'ambulanza, tra poco staranno qui e sfonderanno la porta. Quello che mi secca di più dei salvataggi sono le lavande gastriche, sto tubo infilato in gola e rincoglionimento per giorni, per non parlare poi delle facce stranite e imbarazzate che ti guardano per casa. Poi fatalmente, così, mi costringono ad andare dallo strizzacerveli, ops, dallo psicanalista. Ho un pirla, ma un pirla che sta per due ore a fissarti così, con la pipa in bocca. Poi, all'improvviso mi fa, e pianga signora, pianga. Ma, a dire la verità, non è la prima volta che volevo morire. L'altra volta volevo buttarmi dalla finestra. Poi, mio marito mi ha brancato al volo. Una serie di urla. No, non ti buttare, sì, no, guarda, sono stanca, lasciami in pace, voglio morire. No, tu sei una pazza, io piuttosto ti rompo la caviglia e me l'ha rotta davvero la caviglia, sto coglione. Un mese sono stata con la gamba ingessata, ingessata ma viva. E la gente che mi incontrava per strada mi diceva, ah, cara, sei stata a sciare? Una rabbia, guarda. Il motivo per cui volevo morire? Sempre lo stesso. Lui non mi amava più, no, lui non mi desiderava più. E la lite scoppiava ogni volta che scopriva un nuovo tradimento di mio marito. Eh sì, le sue motivazioni? Sempre le stesse. Ma sai, cara, con le altre è solo un fatto di sesso. Ah beh, tra me e te non c'è più nemmeno quello. Ma no, cara, con te è diverso perché io per te provo una grande stima. Ah beh, e allora? E se c'è la stima? Cosa c'è di più importante tra un uomo e una donna? La stima, no? Vaffanculo. Sì, perché poi in questi casi divento triviale. Sì, io divento triviale. Ma sono le banalità sue di mio marito che mi fanno uscire fuori di testa. La cosa non poteva più andare avanti così. Ormai non facevamo più l'amore da un pezzo. E sinceramente io, dico sinceramente, all'inizio pensavo fosse malato, che ne so, esaurito. E invece ho scoperto che il signorino aveva un'attività sessuale con altre donne, ovviamente. Voi immaginatevi la scena, immaginatevi la scena, sono le tre di notte, noi siamo sul nostro letto. Io piango, disperata, chiedendogli perché non volesse più far l'amore con me, perché cosa c'era che non andava, perché non mi amasse più. E lui? E non riesco, non riesco. Sono preoccupato, cara. L'Italia va a rotoli. Ah, la politica mi ha tirato fuori. Il buco nello zono, la siccità pur di non fare l'amore con me, la mamma. Poi mi ha detto, amore, tu ormai per me sei così importante, così fondamentale come mia madre. Oh, grazie amore, grazie, grazie. Mi è passata di ruolo, che carino. L'italiano medio con la mamma. No, tesoro, non funzionano così le cose. No, no. Io voglio essere declassata come l'amante di passaggio. Sì, io voglio essere sbattuta sul letto, desiderata. Me ne frego io da fatti, da cuccia calda, da tetta tenera. L'italiano medio con la mamma. Ma guarda tu questo. Sì, ma io adesso ti faccio un casino. Sì, io ti faccio un casino. Io adesso vengo sotto il posto dove lavori. Sì, mi metto a passeggiare su e giù per il marciapiede, con un bel cartello scritto in fronte. Qui lavata, stirata, profumata, si offre in offerta speciale la moglie del ragionier Mambretti. Sconti speciali a Blue Express ed Enel. Così ti faccio toccare con mano la cuccia calda. Hai capito, amore? E poi guarda, sei un rozzo, sei. Mi hai fatto passare anche la voglia di suicidarmi. Io adesso non mi ammazzo più. No, non mi ammazzo più. Io ammazzo te. No, non mi ammazzo più.